buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 23 ottobre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi così facciamo gli auguri a chi compie il suo onomastico si tratta di san giovanni da capestrano in provincia dell'aquila san giovanni un nome molto molto diffuso non è san giovanni l'evangelista ma è un santo ugualmente importante visse nel sedicesimo secolo sacerdote ma anche grande diplomatico grande fautore di pace predicatore fununzio apostolico per il papa e anche fununzio apostolico per l'imperatore che allora era federico terzo andò in germania convertì un gran numero di persone che erano eretiche come gli russiti gli adamiti i taborriti e anche gli ebrei quindi fu un grande annunziatore di pace è un grande convertitore per quanto riguarda la fede cattolica questo è san giovanni da capestrano ed ora diamo come sempre un'occhiata alle condizioni atmosferiche sarà una giornata ancora stabile oggi sulle marche ieri era una bella giornata oggi dovrebbe essere lo stesso ma ci saranno però alcuni annuvolamenti sparsi in transito cose molto leggere clima ancora mite le temperature dai 15 ai 21 gradi i venti sulle coste con una tensione media da est sud est e così come nell'entroterra e le temperature sono in calo il mare leggermente mosso questa è un po la situazione del tempo godiamoci oggi ancora una giornata piacevole e allora diamo un'occhiata alle notizie oggi è lunedì il resto del carlino presenta una edizione leggermente ridotta quindi diamo un'occhiata alla prima pagina con tutto il sunto delle notizie che provengono dalle cinque province marchigiane la provincia di pesaro urbino purtroppo abbiamo un dramma un dramma del sabato sera auto contro un albero muore a 19 anni era un ragazzo di urbania schianto nella notte un ragazzo che perde il controllo della propria auto e purtroppo per lui non c'è stato nulla nulla da fare vediamo anche quello che accade a pesaro mamme in piazza con i bambini perché non c'è posto negli asini nido predisposti dal comune sono rimaste fuori sono 200 e non hanno appunto non possono usufruire di questo servizio molto importante per quanto riguarda soprattutto i genitori entrambi che lavorano e poi una manifestazione ancora contro la discarica di riceci ieri è stata stato presente il deputato dei verdi borrelli che ha detto portiamo il caso riceci in commissione antimafia e vediamo anche le notizie che giungono da ancona una sfida infrastrutturale bene c'è stata la convention di fratelli d'italia a un anno dal governo di del meloni rilanciamo le marche la convention di fratelli d'italia alla loggia dei mercanti ci sarà ci sarà tanto tanto ancora da fare ma quello che abbiamo fatto è importante lo ha detto il presidente della regione acquaroli sanità e nuovi voli al sanzio la regione riparte la sanità sappiamo in piena riforma ci sono ancora molti problemi da risolvere ed è importante anche incrementare i voli e all'aeroporto sanzio di ancona perché questo incrementa l'economia regionale l'economia turistica l'economia industriale perché poi i contatti servono anche a questo e poi non manca la cronaca anzi la cronaca è molto molto presente minacce di morte è testata alexe lei lo denuncia scatta il divieto di avvicinamento il tutto davanti ai bambini e poi una un incidente stradale ad arcevia per fortuna senza gravi conseguenze un ragazzo in bicicletta è caduto in un dirupo una scarpata alta sei metri però se la verrà anche se è grave e poi ad ascoli piceno la chat porno degli studenti oltre mille iscritti così era diffusa su whatsapp molti genitori sono rimasti sorpresi di vedere il proprio figlio iscritto a questo grande gruppo che dilagava sempre più a san benedetto ex consultorio rogo sul tetto vanno fuoco i pannelli solari e poi ancora la cronaca al lido di fermo scappa all'alte in seguimento da brividi sulla adriatica ovviamente la polizia non è stata ferma in questo caso e ha inseguito il malvivente macerata cantiere dalla piscina si riparte dopo lo stop pronta l'estate e poi i ubriachi al volante strage di patenti e cartelli anti movida quindi un'operazione del sabato sera molto molto opportuna per contemperare per contemperare gli eccessi che poi si commettono al volante dopo una notte brava e allora apriamo il giornale e vediamo la pagina di pesaro purtroppo vediamo questo dramma che è accaduto un nuovo dramma del sabato sera il carlino dedica due pagine alla notizia esce di strada e finisce contro un albero auto polverizzata veramente lo schianto è stato veramente terribile qui si vede soltanto un ammasso di lamiere muore un ragazzo di 19 anni si tratta di mattea tancini mattia mattia scusate mattia tancini eccolo qua nella fotografia questo bel ragazzo il giovane è morto sul colpo tra le ipotesi il colpo di sonno e poi ci sono i ricordi il rammarico il dolore di tutta la comunità di cui si è fatto espressione il sindaco di urbania marco ciccolini esprime lo shock di un'intera comunità è una ferita enorme per urbania detto e per la comunità tutta conosco la famiglia tutte le persone brave e per bene alle quali in queste ore ci stringiamo con profondo affetto il funerale di mattia si svolgerà oggi alle 14 e 30 nella cattedrale di urbania un altro incidente per fortuna questo meno grave però ugualmente importante si schianta contro un cancello e arriva l'elisoccorso a case badioli un altro incidente autonomo senza il convolgimento di altre autovetture si è verificato ieri intorno a mezzogiorno e mezza un uomo del 75 è stato trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di torrette di ancona per la gravità delle ferite riportate l'uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua chevrolet quando giunto a case badioli all'altezza della rotatoria di gabice ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo della propria auto per fortuna sembra che non sia in pericolo di vita ed ora vediamo le proteste che hanno espresso le mamme che sono rimaste escluse dal servizio di asilo nido mamme in piazza con i bebè 200 famiglie escluse dall'asilo nido un presidio di protesta è avvenuto ieri in piazza del popolo è arrivato anche l'assessore murgia l'educazione è un diritto o un privilegio hanno detto le mamme ma il comune spende già 10 milioni di euro mentre la regione soccorre questo servizio con pochi soldi sono sempre tanti un milione e mezzo ma paragonati a quello che spende il comune certo è una quantità ristretta ebbene a fronte di 249 domande che sono state accolte dal comune di pesaro altre 200 famiglie non hanno quest'anno trovato posto negli asili nido e nemmeno in quelli privati quindi dovranno per forza o fare affidamento all'assistenza parentale oppure dovranno prendere una babysitter perché non c'è altra soluzione se vogliono continuare a lavorare creati i 50 posti per la sezione primavera il 60 per cento delle domande e per questa fascia questo è lo sforzo delle istituzioni e poi vediamo il caso riceci il caso riceci con la presenza del vicepresidente della commissione inchieste sul ciclo rifiuti francesco emilio borrelli deputato dei verdi che ieri è stato presente sulla spianata nell'entroterra dove si sono dati appuntamento tanti tanti cittadini per protestare ancora contro l'idea contro il progetto di istituire questa discarica in uno dei posti più belli del nostro panorama dell'entroterra porto il caso e in commissione antimafia ed ora diamo un'occhiata alla pagina di ancona dove vediamo la convention di fratelli d'italia tempo di bilanci infrastrutture sanità nuovi voli al sanzio così come abbiamo detto è la regione vincente secondo francesco acquaroli avere un governo forte e stabile come difficilmente era capitato negli ultimi dieci anni agevola il nostro lavoro ha detto il presidente della regione marche e e poi c'è anche una dichiarazione riportata qui in questo sommarietto di guido castelli nel centro-sinistra ci consideravano un underdog ovvero dei perdenti a vita ci hanno sempre sottovalutato invece eccoci qua dopo un anno di governo nazionale e ovviamente dopo quanto è stato fatto in regione minaccia di morte è testata all'ex scatta il divieto di avvicinamento il protagonista è un 44enne che è stato denunciato alla polizia dopo anni di violenze prima verbali e poi si è passato veramente alle vie di fatto con aggressioni alla compagna la donna si è decisa a denunciare e quindi è scattato il divieto di avvicinamento con tutto quello che serve per il braccialetto elettronico morti improvvise ecco cosa dobbiamo fare ebbene una delle cause di morte più frequenti nel nostro territorio come un po anche nel territorio regionale è quello derivante dalle malattie cardiovascolari gli ictus e gli infarti sono quelli che causano più dei tumori più delle malattie oncologiche e la morte appunto dei cittadini e qui ci sono dei consigli per cosa fare ovviamente una vita una vita sana una vita che deve combattere l'ipercolesterolemia l'ipertensione il diabete insomma sono tutte quelle malattie che insurgono con la il progredire della età ed ora diamo un'occhiata al corriere adriatico eccolo qua la prima pagina è dedicata ovviamente all'incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni vediamo l'apertura che il giornale dedica alla pagina di difano è un articolo che riguarda la protesta di alcuni commercianti di corso matteotti i quali sono costretti a convivere con un cantiere immobile da circa due anni è il cantiere del sant'arcangelo questo grande palazzo l'ex collegio che dovrebbe essere almeno in parte trasformato in casa della musica e museo del carnevale è stato oggetto di una lunga vicenda di carattere giudiziario per quanto riguarda i ricorsi che si sono alternati tra le due ditte che erano le prime classificate alla concessione del bando dei lavori per realizzare questa nuova opera un'opera importante perché ha la firma che il cui progetto ha la firma di un grande architetto italiano italo rota e quindi una un lavoro considerevole alla fine la spuntata la ditta che era stata sin dall'inizio identificata dal comune di fano la ditta pensi però perché il cantiere non riparte e questa è un po la domanda che si fanno i commercianti che sono che hanno i loro esercizi davanti a questo cantiere e lo vediamo qui nella fotografia con questa recinzione posticcia che da due anni circa forse anche così è un po di meno adesso non ricordo bene il il momento in cui è stata eretta o comunque da lungo tempo i commercianti dicono due anni che restringe anche la carreggiata del corso che è già stretta di per conto suo e allora che cosa fare bisogna insistere perché questa vicenda si risolva ci sono delle dichiarazioni e che sembra anche in questa settimana si proceda alla cremente e si dice in comune che alla fine del mese la fine del mese di ottobre il cantiere dovrebbe finalmente partire ed è una delle opere più importanti che si svolgeranno in centro storico un grande successo un grande successo ha riscosso ieri la camminata in rosa organizzata dall'assessorato le pari opportunità in occasione dell'ottobre in rosa quell'ottobre che sensibilizza la popolazione per la prevenzione del cancro al seno camminata in rosa 1300 in marcia tra centro e mare alla manifestazione era presente anche il direttore del reparto di senologia dell'ospedale santa croce cesare magalotti che ha ringraziato tutti per la partecipazione quindi un grande sensibilizzazione per questo tema un lungo serpentone che ha percorso l'itinerario tra il centro storico e la zona mare di fano una grande festa un grande colore sto rosa carico che ha caratterizzato le magliette di quest'anno tante le associazioni che hanno collaborato e hanno eretto i loro stand in piazza e poi la presenza di moni ovadia a fano per la bibbia la terra è di dio lo straniero una benedizione moni ovadia conclude parole di giustizia in un incontro che si è svolto alla memo sabato scorso c'è un eco delle censure a israele ebbene moni ovadia ha parlato di come accogliere i flussi migratori e poi ha parlato ovviamente del conflitto israelo palestinese la lezione sul concetto di ospitalità ispirata dal testo sacro che parla dell'essere umano un'altra notizia è che palazzo nonolfi ex sede del tribunale quella volta la questura la procura sì il tribunale diciamo meglio il tribunale di fano la l'apretura è come non mi veniva il nome l'apretura prima poi il tribunale di fano in via arco d'augusto ora sarà sede anche di alcune associazioni cittadine in questo stabile ora ci sono gli uffici della viabilità di fano dell'assessorato alla viabilità vediamo anche qualche notizia di sport oggi dopo la domenica sportiva visse il derby ti fa bella bella vittoria della vispesaro contro la recanatese per 1 a 0 la vittoria è del gruppo banchieri esalta la visse successo prezioso perché è arrivato in un derby e contro una squadra forte vediamo anche il fano calcio per il fano una vittoria d'oro 1 fano 0 matese l'alma ha il merito di crederci fino alla fine e risolve il rebus matese nel finale grazie ad una magia questo viene considerato il calcio risolutivo dato da ten corang che ha fatto guadagnare tre punti alla squadra premiata la voglia di vincere qui vediamo il sorriso di marco scorsini il laniatore del fano calcio fossombrone di misura e c'è anche il primato i biancazzurri liquidano il termoli in vetta si riforma il terzetto con il samb e il chieti e l'urbino anche l'urbino non si ferma più una vittoria 2 a 1 contro la san giustese fuori casa battuta la san giustese vp la quinta vittoria in segare per la capolista quindi che marcia a vele spiegate ora sola in vetta per il rinvio della civita novese ma giriamo ancora e vediamo la beffa montecchio gallo la vittoria sfuma al 95esimo quindi siamo veramente in zona cesarini montecchio gallo 1 maceratese 1 per i biancorossi sembrava fatta ma la maceratese acquista il pareggio proprio in extremis giriamo ancora la pagina per trovare il volley e vediamo la smart system all'ultimo respiro veramente una partita all'ultimo respiro ieri al pala all'Iende fano ha vinto il primo set in maniera molto decisa ma poi è stato discontinuo a tratti anche pasticcione acciuffa per i capelli la vittoria contro il napoli fano 3 napoli 2 pensate per un punto si è giudicato al quinto set la partita mikalovic si risveglia arriva anche un doppio errore in battuta di napoli che decide il match e questa è la seconda vittoria dello smart system questo per quanto riguarda lo sport ora diamo un'occhiata invece alle pagine di pesaro dove si parla in apertura del grande intervento di polizia che il capoluogo sta operando in vista anche del prossimo anno no questo grande questa grande kermes della cultura nazionale tombini maxi polizia ma la sosta è un tetris occhio ai divieti lampo la sperimentazione lo ricordiamo parte oggi tra le 12 e le 18 comincerà da viale trento gambini chiede al comune di istituire la figura del cantoniere di quartiere questo cantoniere che viene rimpianto che viene desiderato da tutte le località una volta c'era il cantoniere che si occupava della polizia delle strade delle opere di normale di manutenzione adesso questo non c'è più tutto si dà in appalto e purtroppo c'è stato un disservizio rispetto all'antico ecco perché si rimpiange questa figura Villino Ruggeri si potrà restaurare il balconcino guardiamo questo balconcino del Gresto grande vista bellissima costruzione di stile Liberty a Pesaro il balconcino era un po' degradato e ora si restaura e qui lo vediamo con qualche sostegno qualche struttura che lo tiene fermo giriamo ancora la pagina e vediamo l'articolo che riguarda la protesta delle mamme nidi bimbi fuori dalle graduatorie in piazza la protesta delle mamme l'assessore Murgia ha incontrato i partecipanti si cerca una soluzione ci vorrebbe anche il sostegno della regione e poi come non parlare anche sulle Corriere Adriatico del terribile schianto che si è verificato sulla stratale ieri notte sulla strada 745 Metaurense dove il giovane era la guida di un Fiat Doblò Mattia Tancini aveva 19 anni e faceva il muratore aiutava il suo papà l'incidente alle 3.30 di notte il sindaco una comunità ferita muratore con il sogno del trading online il titolare del circolo che frequentava era elegante e pieno di vita Mattia Tancini nato nel 2004 lascia la mamma Samantha il padre Enrico il fratello Alessandro di 4 anni più grande viveva tra Sant'Angelo, Invado e Urbania città in cui risiedono il padre e la madre che sono separati anche se ultimamente stava più a Sant'Angelo, Invado dove praticava il circolo del campo sportivo era un appassionato di calcio insomma un dolore che ha così compenetrato tutta la comunità vediamo anche la pagina di Urbino prima di chiudere torna dal caffè insieme alle amiche viene travolta e uccisa sulle strisce l'incidente ieri sera in via Roma si tratta di una 76enne Luciana Bennati sbalzata dall'auto 8 metri avanti ebbene anche questo un incidente terribile che si è verificato nel nostro entroterra esce per un caffè con le amiche e al rientro sulla strada di casa viene travolta e uccisa da un alto mentre attraversava le strisce pedonali pensate, mentre attraversava le strisce pedonali l'investimento è avvenuto ieri sera intorno alle 19 a Urbania è un articolo che ha solo il Corriere Adriatico un grande schianto nella notte contro un albero nelle prime ore di quelle che sarà ricordata come una domenica orribile per la città metaurense insomma tanti incidenti venendo in redazione da Fano c'è una strada dove c'è un cartello che è stato assunto da un privato che dice vai piano non ci sono simboli non ci sono scritte criptiche c'è solo un chiaro avvertimento vai piano andiamo piano veramente e con questo concludiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto